Buonasera a tutti, io sono Mario Danieli, Country Manager Italia del gruppo Argo Tractors, al quale fanno capo i marchi Landini, McCormick e Valpadana. Oggi siamo qui insieme all'ingegnere Candiani per rappresentarvi l'ultimo nato della famiglia McCormick, l'X7 VT Drive da 210 a 240 cavalli. Questo prodotto sta a evidenziare la determinazione e la ferma volontà da parte del nostro gruppo di voler emergere anche in questo importante settore di macchine di prestigio di alta potenza. Per cui ecco voi X7 VT Drive. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Buonasera a tutti, sono Mirko Candiani, Product Manager Aggo Tractors e oggi insieme a voi andremo a vedere quelli che sono i punti di forza della nuova X7.6 VT Drive McCormick X7.6 VT Drive Stage 5 copre una potenza che va da 210 a 240 CV e contestualmente va a coprire il gap che abbiamo con il McCormick X8 VT Drive evidenziamo anche il cambio di denominazione della trattrice che evidenzia il cambiamento di emissioni e introduce nuovi concetti quali il nuovo tetto che equipaggia 12 fari a LED di ultima generazione per garantire una visibilità a 360 gradi e un nuovo design tetto e cofano. I driver che hanno guidato il progetto sono la ricerca continua di materiali e componenti di alta qualità, un'attenzione ai dettagli e all'ergonomia, attenzione al comfort in cabina, alla luminosità e alla spazziosità della stessa. sono ricercate trattrici di sempre più alta potenza e con contenuti tecnologici avanzati non dimenticando il fatto della facilità di utilizzo che è ricercata dal cliente oltre che alle prestazioni e alla produttività, all'attenzione ai dettagli appunto, alla facilità di manutenzione e a pacchetti di garanzia estesa e di manutenzione programmata. Con il nuovo emissionamento, con i nuovi motori introduciamo una nuova tecnologia chiamata Best in Clash che permette di incrementare l'efficienza dei motori, permette di raddoppiare l'intervallo di manutenzione e contestualmente di dimezzare i costi di manutenzione stessa, tenendo sempre in considerazione l'attenzione all'ambiente. Quindi tre sono i modelli che completano la gamma McCormick X7.6 VT Drive caratterizzati da un passo di 2,8 metri, un peso in ordine di marcia di 8,3 tonnellate e 13.000 kg di massa massima ammissibile che garantiscono un ottimo bilanciamento fra assale anteriore e posteriore, insomma una trattrice progettata ed ideata per garantire massime prestazioni per lavori gravosi ed impegnativi. Dicevamo prima, e parlavamo venendo qua io e Mario prima, dell'attenzione al comfort beh, con McCormick X7.6 VT Drive il comfort è garantito dal sistema di sospensione semiattiva a controllo elettronico che garantisce anche il perfetto connubio di comfort ricercato dall'operatore che può andare a modificare appunto tramite un facile ed intuitivo menu nel monitor touchscreen di configurare il comfort ricercato. Sempre parlando di comfort, il comfort è garantito anche dalla sale anteriore a sospensione a ruote indipendenti che permette di elevare il comfort percepito dall'operatore tramite i fini controlli elettronici alla maggior trazione in campo e al controllo automatico della posizione della sale. Con il nuovo McCormick X7.6 VT Drive andiamo a introdurre un nuovo sistema di regolazione del volante elettroattuato grazie all'apposito pulsante che permette all'operatore di regolare in maniera opportuna il volante stesso. Grazie a tutti! McCormick X7.6 VT Drive è disponibile di un sollevatore anteriore con controllo di posizione capace di sollevare fino a 3500 kg con o senza presa di forza anteriore e controllabile all'esterno tramite due ergonomici pulsanti. La manutenzione, altro fattore molto importante per il cliente finale, è garantita dal pacco radiatori ad apertura a compasso che permette di agevolare quelle che sono le operazioni giornaliere di manutenzione che possono essere spettate dall'operatore in maniera facile ed intuitiva. Il sistema di raffreddamento invece è garantito dal ventilatore a controllo biscotronico che permette di ridurre le emissioni sonore percepite e contestualmente di ridurre anche quelli che sono i consumi. Il nuovo McCormick X7.6 VT Drive Stage 5 è equipaggiato di serie con la nuova trasmissione VT Drive una trasmissione a variazione continua di ultima generazione a 4 stadi precisa ed affidabile per l'operatore professionale una trasmissione capace di raggiungere 50 km orari a regime di giri motore ridotti, 1600 giri e capace di spingersi fino a una velocità minima di 40 metri ora la trasmissione inoltre è equipaggiata di serie con 4 velocità di presa di forza ampia è l'offerta idraulica abbiamo di serie un sistema a centro chiuso da 123 litri con una pompa ad ingranaggi dedicata allo sterzo in opzione è disponibile una pompa da 160 litri al minuto fino ad 8 distributori elettroidraulici a controllo elettronico configurabili ed in aggiunta è disponibile anche un deviatore di flusso che va ad aggiungere ulteriori tre distributori all'offerta idraulica uno dei punti di forza di questa trapprice è sicuramente l'installazione motore su telaio infusione di ghisa che innalza ovviamente il livello di rubostezza diminuisce il livello percepito di vibrazioni migliora la trazione sia in campo e la stabilità in trasporto oltre che a migliorare le doti di manovrabilità della trattrice stessa parlando invece di concetti e ovviamente di tecnologia on board ci tengo ad evidenziare quelli che sono i nuovi menu sviluppati dai nostri ingegneri Argo Tractors stiamo parlando di My Functions 5 funzioni completamente memorizzabili dall'operatore che possono essere scelti fra tutti i controlli della trattrice stessa questo ha vantaggio di una maggiore configurabilità della trattrice stessa un ulteriore menu che è stato sviluppato dai nostri ingegneri è quello che noi chiamiamo MyHMF di fatto l'operatore può andare a memorizzare infinite sequenze di fine campo e a richiamarle al bisogno tramite un semplice come potete vedere menu dedicato sul Data Screen Manager Touchscreen Monitor un'altra funzionalità presente su McCormick X7.6 VT Drive è il menu luci MyLights che permette di configurare fino a due set di luci che sono controllate dalla posizione dell'inversore o dalla posizione dello sterzo del trattore questo per garantire un'ottima e precisa visibilità in ogni condizione qui potete vedere come è facile ed intuitivo andare a configurare le luci della trattrice stessa tecnologia ISOBUS e agricoltura di precisione sono garantiti dai sistemi offerti dalla casa McCormick quali il Precision Steering Management che permette di raggiungere una precisione d'accuratezza fino a due centimetri con il sistema di guida satellitare con McCormick X7 abbiamo introdotto una nuova funzionalità che chiamiamo McCormick Fleet Management scusa Mirko, cosa vuol dire Fleet Management? A cosa serve? allora, è un sistema che tu ben conosci che di fatto è una gestione di flotta a 360 gradi che permette al gestore di controllare la posizione dei trattori controllare i consumi, controllare la velocità, il regime di giri motore e tutte quelle che sono le caratteristiche delle trattrici ma fammi capire, scusa se ti interrompo, cioè io da casa prendo il mio computer posso guardare quanto il mio trattore consuma, il livello di carburante ma posso anche ispirare dov'è? tu hai la facoltà di vedere la posizione dei tuoi trattori quindi vedere appunto se il tuo operatore sta trattando bene il tuo trattore o lo sta usando alla massima prestazione o efficienza o efficienza appunto e potrai anche andare ad agire in remoto con dei controlli dedicati che sono necessari come ben sai richiesti dall'agricoltura 4.0 e dal credito di imposta certo, infatti tu sai io conosco molto bene questo sistema anche perché noi abbiamo un sistema originale che dà la possibilità alle nostre macchine di accedere al credito di imposta 4.0 e la cosa importante è che su questa macchina è la prima macchina che lo monta di serie se non vado errato, dico bene? sì, McCormick X7.6 è equipaggiato di serie come ha detto Mario con un sistema Fleet Management e un abbonamento di tre anni estendibile a cinque anni infatti perché i cinque anni servono per il credito di imposta però al di là di questo credo che il vantaggio principale sia quello al di là della battuta del vedere dov'è il trattore più che altro vedere quello che mi costa il trattore per cui vedo la resa oraria ettaro mi sembra infatti con questa slide ecco tu puoi vedere seduto comodamente a casa nel tuo ufficio puoi vedere il funzionamento e i consumi della tua trattrice e mi dicono che questa trattrice consuma molto poco anche assolutamente sì benissimo grazie a tutti 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 bene Mirko direi che oggi abbiamo fatto vedere una macchina di poco credo eccezionale se mi permetti voglio riassumere se ho capito bene le cose che hai spiegato oggi motore è un 6.7 litri beta power montato su chassis in ghisa che dà meno vibrazioni per cui trasmette meno vibrazioni all'utente aumenta la robustezza aumenta la robustezza e la stabilità e maggiore aderenza in campo se ho capito bene sono stati dimezzati i tagliandi perché abbiamo raddoppiato le ore di intervento sul tagliando di manutenzione confermo per cui oggi se una persona fa mille ore all'anno fa un tagliando questo grazie al sistema best in class che con il sistema di filtraggio permette di allungare i tempi di manutenzione perfetto poi abbiamo se ho capito bene il monitor che ha avuto degli aggiornamenti prima del monitor parliamo della trasmissione VT Drive una trasmissione a variazione continua a quattro stadi che permette di enfatizzare precisione e controllo della trattrice ma se ho capito bene io addirittura posso programmare i quattro stadi della trasmissione posso decidere a quale velocità far andare il primo il secondo, il terzo, il quarto, dico bene? certo tu puoi andare elettronicamente a controllare la velocità massima della tua trattrice e questo ti permette di essere più sensibile nelle lavorazioni direi che è decisamente una caratteristica importante e poi abbiamo il monitor che ha avuto degli aggiornamenti il comfort in cabina ma si vede che mi sono probabilmente mi sono colpito più da quello che è stato oggi l'elettronica del mezzo perché sul comfort se non vado a rato della cabina si ma è sempre gestito tramite i menu si può anche regolare la cabina o no? certamente tramite il menu facile ed intuitivo che abbiamo sul DSM vedi che torniamo al monitor che il monitor ormai serve a tutto serve alla trasmissione per poter impostare i parametri dei quattro stadi serve alla cabina per poter rendere più o meno sensibile se non vado errato l'escursione della cabina si, la rigidezza dell'assetto cabina se vogliamo chiamarlo in termini l'assetto della cabina come sull'automobile diciamo così che uno può impostare l'assetto sportivo l'assetto dynamic o l'assetto comfort dico bene? confermo vedi che torniamo sempre al nostro monitor certo dal monitor io riesco poi a se non vado errato a gestire a impostare su My Function che sono dei pulsanti che io ho sul manipolatore e sul manipolatore appunto della trattrice io posso impostare delle funzioni della trattrice? cinque funzioni scelte fra tutte le funzioni della trattrice stessa fra tutte le funzioni corretto per esempio? posso controllare la presa di forza anteriore posso controllare l'attivazione della presa di forza posteriore in un'altra operazione posso andare a controllare l'idraulica piuttosto che andare a controllare una delle manovre di fine campo che ho preventivamente memorizzato dal monitor posso anche regolarmi i fanali posso regolarmi le luci a led se ne ho avvalato sono 16 o 20? 20 20 in totale 12 sul tetto 20 luci a led io posso regolarle e decidere se ho capito bene anche in funzione della direzione di marcia? corretto puoi decidere l'attivazione delle luci o lo spegnimento delle stesse tramite appunto il my lights il menu dedicato sul monitor e questo puoi farlo a seconda della posizione dell'inversore ad esempio o a seconda della posizione delle ruote quello che noi chiamiamo in automotive corner in light quindi vado a illuminare l'angolo di sterzata e se non erro c'è anche la possibilità di avere sull'auto si chiamano luci di cortesia dove io quando spengo il mezzo rimangono accese le luci per un certo periodo per darmi la possibilità di avvicinarmi a casa o di aprire la porta di casa ma è vero anche questo? corretto puoi impostare un intervallo di tempo che ti permette di raggiungere la tua casa anche in condizioni di notte e il comfort è dato anche dalla sale sospeso a ruote indipendenti dico bene? sì in combinazione con il sistema di sospensione della cabina semiattiva controllo elettronico incredibile io penso che ci siano delle caratteristiche su questa macchina che fanno venire voglia a comprarla anche a sottoscritto anche se non sa da che parte salire onestamente anche se non è poi così vero diciamo che sono stato capace qualche volta di guidare il trattore anche in campo devo dire una cosa la volontà l'ho espressa di McCormick l'ho espressa all'inizio abbiamo una forte determinazione nell'entrare nel campo dei trattori di alta potenza in questo segmento da 210-230 cavalli il mercato consta circa di 450 unità e noi vogliamo replicare il successo che abbiamo avuto con X8 la macchina da 310 cavalli portando delle quote a McCormick importanti prendendo dei clienti che hanno dato fiducia a McCormick e che sto ringraziando e ringrazio veramente gli siamo vicini, li stiamo seguendo crediamo molto in questo progetto nel progetto dell'alta potenza McCormick e con X7 624 i 240 cavalli, i 210 e i 230 se non valerato sono tre i modelli abbiamo voglia ma soprattutto siamo determinati nel raggiungere le quote di mercato che competono a questo marchio Mirko, grazie mille ma dove posso informarmi e trovare le informazioni che tu hai detto e che hai esposto oggi a noi tutti? Allora, tutte le caratteristiche tecniche della trattrice ma non solo di questa trattrice le trovate collegandovi a McCormick.it il sito aziendale ma posso trovare anche il prezzo? ma il prezzo il prezzo è l'ultima cosa non conta che non conta ma la rete di concessionari sarà ben lieta di darvi tutte le informazioni in merito benissimo grazie Mirko grazie per la tua spiegazione e arrivederci al prossimo prodotto McCormick Power Technology